Il treno che nel 1921 trasportò fino a Roma il corpo sconosciuto di un militare che aveva dato la sua vita per la patria è arrivato ieri a Sapri per una breve sosta nel viaggio che dal 6 ottobre sta svolgendo lungo tutta l'Italia in memoria del dramma della guerra e per rendere onore e merito ai tanti italiani caduti. In vista delle celebrazioni delle forze armate del 4 novembre, il treno della memoria partito da Trieste ha percorso l'Italia sulla parte adriatica fino a raggiungere la Puglia e la Sicilia da dove sta ora risalendo lungo la costa tirrenica per raggiungere Roma il prossimo 4 novembre e lungo questa risalita, nella giornata di ieri 1 novembre, si è fermato per una breve sosta di qualche minuto alla stazione di Sapri dove ad attendere il convoglio guidato dal generale dell'esercito italiano Fulvio Poli c'erano non solo i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose ma anche tantissime persone bambini con le bandiere tricolore che hanno voluto rendere omaggio con la loro presenza al milite ignoto e a tutti coloro che hanno perso la vita in difesa dell'Italia. Tanti fiori deposti ai piedi dell'affusto del cannone su cui nel 1921, alla fine della Prima Guerra Mondiale, fu poggiata la barra del milite ignoto scelta tra 11 feretri individuati sui luoghi dove si erano consumati i combattimenti da Maria Bergamas, madre di uno dei giovani morti durante il conflitto e i cui resti furono dichiarati dispersi. La barra, posizionata su quel convoglio che nella giornata di ieri ha raggiunto anche la stazione di Sapri aveva raggiunto Roma per essere poi tumulata al Vittoriano dopo un lento cammino da Aquilea alla capitale con tappe in ogni stazione per consentire alla popolazione di rendere omaggio al militare sconosciuto caduto in guerra. Quel viaggio è stato riproposto anche quest'anno ed ha visto Sapri tra le soste del convoglio una grande emozione per un momento che, come sottolineato dal generale Poli vuole essere soprattutto un monito per i giovani affinché non ripetano gli errori commessi dagli adulti. Questo convoglio, questo simbolo, questo messaggio è rivolto principalmente ai giovani è un monito per loro per non commettere gli errori di noi adulti quindi è un ammaestramento soprattutto rivolto alle giovani generazioni e a noi che dobbiamo sentire la responsabilità di guidare i nostri ragazzi dire a tutti, giovani e meno giovani, l'importanza della pace e della fratellanza fra i popoli. Pochi minuti e il treno della memoria è ripartito diretto a Napoli dove si fermerà nella giornata di domani 3 novembre per raggiungere Roma a termini il 4 novembre nella giornata dedicata alle celebrazioni per l'unità d'Italia e le forze armate.